Allora, cambiano gli allenatori, purtroppo non cambia il risultato, però insomma il mio sindaliero è stato un po' diverso rispetto alle ultime uscite, forse anche un tipo di imprecisione sottoporta, vi ha costretto a questa nuova sconfitta. Che tipo di partita hai visto? Insomma, due per te, questa è una partita anche difficile, molto combattiva, con molto combattimento, e probabilmente poche operazioni, soprattutto le funzionali, ma insomma è un certo spazio che non faccia. Va bene, penso che questa sia stata forse la partita più bella che abbiamo fatto da quando siamo a Catanzaro. Penso che anche all'interno mi è sembrato un piacere giocare, penso che in questo modo abbiamo creato tanto, forse le altre partite non siamo mai riusciti a creare tanto, quindi penso che anche per me le ho cambiato. l'occasione arriveranno sicuramente giocando così, penso che giocando in questo modo, con personalità e con fiducia, penso che possiamo perderne una, due, ma penso che faremo risultati. Se non è che avevamo qualche problema con il modulo di prima o con l'allenatore di prima, penso che abbiamo giocato, come ho detto prima, con personalità e forse fiducia, e quindi forse riusciamo tutti ad esprimerci meglio. All'interno di occasioni però, insomma, la partita, l'avate da voi, loro hanno fatto due pili, due reti, e questa imprecisione in avanti, è un'idea di casa e questa preoccupazione? No, 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 penso che questa imprecisione prima o poi finirà, quindi penso che, speriamo prima che poi, anche perché le partite sono sempre di meno, e speriamo che dalla prossima partita tutti i tiri vanno in porta. Grazie a voi.